Traniello, parlate di situazione di regione allo sbando per quanto riguarda la pubblica amministrazione, i vari settori della pubblica amministrazione con ripercussioni molto gravi per l'utenza, ma non solo. Perché? Noi riteniamo che oggi la regione si trova in grosse difficoltà, però le difficoltà sono dovute a un cambio continuo di dirigente preposti ai vari servizi e soprattutto sui dipartimenti, direttori che si dimettono, dirigenti che si dimettono dai servizi e c'è un'alternanza che certamente non favorisce la buona pratica della pubblica amministrazione, ma non favorisce soprattutto l'efficienza e l'efficacia dei servizi che la pubblica amministrazione e in particolare la regione deve erogare ai cittadini, alle imprese che sono sul territorio. Questo danneggia fortemente l'industria e anche l'artigianato che sta sul territorio, ma sta danneggiando fortemente soprattutto la filiera agricola vitivinicola, perché con il PSR siamo diventati la terz'ultima regione come capacità di attuazione del PSR 2014-2020 e siamo al 5,26%. Quindi chiedete un cambio di passo immediato? Noi ci auspicavamo con l'insediamento dell'Aggiunta d'Alfonso che ci fosse stata un'accelerazione da parte della pubblica amministrazione. Purtroppo dobbiamo constatare che così non è stato, anzi siamo veramente allo sbando nell'interregione. Noi anche come organizzazioni sindacali non abbiamo punti di riferimento all'interno della regione e degli interlocutori che poi possono darci delle risposte.